A un anno dall'entrata in vigore della legge anticorruzione, Consiglio e Giunta hanno organizzato un seminario pubblico presso il Centro Incontri della Regione Piemonte per analizzare i miglioramenti all'efficienza e agli strumenti al servizio della trasparenza. Le nuove norme assicurano l'accessibilità totale delle informazioni su organizzazione e attività delle pubbliche amministrazioni.